Gli studi più recenti danno una, diciamo, compresenza di una relazione, diciamo, parlano tra la perdita dell'udito nell'anziano e il declino cognitivo. È vero questo? A volte si accompagna questo alla terza età, lo sappiamo. Quali sono, diciamo, come stanno le cose? C'è sicuramente una correlazione, vanno di pari passo perché, e qui c'è un concetto nuovo nelle neuroscienze, ovvero il connetoma, che è l'insieme di circuiti neuronali che ci fanno capire le cose, che ci spiegano, che ci fanno muovere, hanno il centro dell'udito come un hub, quindi un centro di smistamento per altri centri corticali, memoria, attenzione, elaborazione linguistica. Se non viene stimolato il centro dell'udito, anche questi centri ovviamente ne risentono. Ci sono centri cognitivi, tant'è, ed è molto importante saperlo, che un sordo destinato alla demenza si ammala prima di un udente coetaneo che ci sente bene. E quindi c'è una netta correlazione tra sordità e deficit cognitivo. Dunque il calo dell'udito può, diciamo così, evidenziarsi, manifestarsi insieme ad altri problemi, ad altri disagi che incidono fortemente sulla qualità della vita, no? Assolutamente, ovvero il declino cognitivo, chiamiamolo fisiologico, che può essere quasi, passare quasi inosservato, viene amplificato dalla sordità. In particolare l'attenzione selettiva, quello che abbiamo detto prima, cioè riuscire a estrarre il significato in un contesto di rumore. Nell'anziano, ad esempio, si manifesta ancora di più, tant'è che molti hanno difficoltà a capire mentre masticano. Cioè il rumore della masticazione produce. Allora, questo è un segno... Ecco perché il dialogo a cena, le conversazioni a cena diventano sempre più schifose, perché si dicono delle banalità, ci si guarda... Non si può neanche...